10 agosto 2021 come andata la corsa di ieri oggi rimiamo per 1000 metri poi max set di pull up e 21 double thruster due minuti di riposo poi di nuovo 21 double thruster poi ancora max set di pull up e raw 1k praticamente al contrario mica male vero? bene noi ci vediamo domani per un altro video insieme ciao